Universa Universis Fatavina Libertas, un motto splendido per una grande università, un'università che unisce i saperi, tutti i saperi che formano le nuove generazioni a disposizione di tutti, nel segno di un grande valore, il valore della libertà. E dalla libertà nasce la nostra università, l'università nasce perché un gruppo di studiosi lasciano la più antica università al mondo, Bologna, in cerca di libertà di studio, la libertà che viene concessa a Galileo, che la ricorda con grande nostalgia, la libertà di una scuola medica a cui è permesso sperimentare, qui nasce la medicina moderna, la libertà che permette per la prima volta a una donna di laurearsi. Adesso abbiamo davanti un traguardo bellissimo, otto secoli di storia, otto secoli di una storia importante, prestigiosa, ed allora, per raccontare come un grande passato, vive nell'energia di un'università moderna, ci rivolgiamo ai nostri giovani, ai nostri studenti, ai nostri futuri studenti perché portino idee, fantasie, modi di comunicare che ci permettono di raccontare presente, passato e futuro della nostra grande università.